Io sono Lorenzo Zaccagnini, sono laureato in psicologia, purtroppo non in informatico, in matematico, in fisica, ma forse è una cosa a cui rimedierò. Sono laureato alla Sapienza e mi occupo da molti anni di sviluppo software, circa dal 2015, quindi proprio dagli inizi di sviluppo di applicazioni decentralizzate, specialmente su Ethereum. Per contattarmi è possibile contattarmi solo su LinkedIn, che vedere poi i miei lavori su GitHub, tra cui The Volume, di cui sono fondatore, che è un progetto open source, proprio su blockchain, su blockchain Ethereum, anche Algorand. Faccio lo sviluppatore attualmente a Caggia, mi occupo sia di blockchain che di sviluppo più tradizionale. Ok, quando parliamo di smart contract, principalmente parliamo di Ethereum. Non esistono solo su Ethereum gli smart contract. La stessa Bitcoin permette di avere degli script, ma comunque quando parliamo di smart contract parliamo principalmente di Ethereum, perché Ethereum è stata la prima blockchain, in realtà, dopo Bitcoin, a permettere una certa programmazione e, essendo during complete, proprio sviluppare smart contract e quindi applicare dei software anche abbastanza avanzati. Quindi, in questo seminario parleremo principalmente di Ethereum. Quando parliamo di Ethereum, in realtà parliamo anche di molte altre blockchain che sono magari Ethereum compatibili, come per esempio Arbitrum, Polygon, ce ne sono tante. E quindi questo poi è applicabile a tutte le altre blockchain che sono i VM compatibili, quindi che utilizzano l'Ethereum virtual machine. Ethereum, oltretutto, senza dirlo, è open source, quindi altamente documentata e tutte le cose che verranno esposte in questo seminario, è possibile verificarle anche sulle fonti ufficiali. Allora, quando si interagisce con Ethereum, interagiamo con le transazioni, come ogni tipo di blockchain, praticamente, quello che dobbiamo tenere a mente, quando parliamo di vulnerabilità, è che gli account che vediamo all'interno di Ethereum sono due tipi di account. Gli account, praticamente, delle persone e gli account dei contratti. Dobbiamo tenere a mente questo, perché alcuni attacchi sfruttano proprio questo aspetto. E, oltretutto, gli account dei contratti non sono distinguibili da quelli delle persone, a meno che non c'è una tracciabilità della transazione, vedendo che è stato creato un contratto. Ma, nativamente, all'interno della blockchain, un indirizzo è un indirizzo. Almeno, quando dico blockchain, intendo Ethereum, quindi non fucilatemi, se poi ce n'è un'altra che funziona in un altro modo. In questo caso parlo sempre di Ethereum. E quindi un indirizzo di uno smart contract è indistinguibile da un indirizzo di una persona, di un wallet normale. Il problema è che lo smart contract, quando riceve e manda delle transazioni, può comunque implementare delle azioni programmate e quindi sfruttare delle vulnerabilità. Cosa che un account di una persona normale difficilmente può fare. E quindi cosa succede? Che quando noi andiamo a sviluppare smart contract, pensando che le interazioni saranno solo verso altre persone, non verso anche altri contratti, che possono fare a loro volta delle azioni risposta, ci esponiamo a dei rischi. Per questo parlo di quei due tipi di account. Quindi, parlando del colpevole, Solidity è il linguaggio che si utilizza per sviluppare gli smart contract. È simile a C Sharp, almeno secondo me. Ed è il linguaggio principale utilizzato per sviluppare gli smart contract dentro i team. C'è anche Viber e altri tipi di linguaggi proposti, ma attualmente è tutto in Solidity. Viene compilato dall'Ethereum Virtual Machine e quindi quando vedete una blockchain che utilizza l'Ethereum Virtual Machine, potete svilupparci i smart contract in Solidity, ma anche ereditare le vulnerabilità che ha Solidity e la programmazione con Solidity. Questo è un esempio, magari per chi non è pratico proprio a Ethereum, questo è un esempio di smart contract. È abbastanza semplice da leggere e quindi abbiamo sopra la versione proprio del compilatore, che è importante, poi vedremo perché, sui attacchi su base aritmetica. E vediamo qua il contratto che viene delineato proprio con contract, per esempio qua storage. La variabile è il tipo di variabile, una variabile numerica, un sign integer 256, e le funzioni che ci permettono di interagire con lo smart contract. Qua abbiamo una funzione in scrittura, cioè quindi andiamo a mettere un numero, e una funzione di lettura che ci ritorna un numero. Come vedete è un linguaggio fortemente divizzato, magari in differenza di JavaScript, e quindi lo rende anche simile ad altri tipi di linguaggi divizzati, come potrebbe essere C Sharp o Java, o anche lo stesso TypeScript, per chi magari utilizza JavaScript con TypeScript. Vedendo l'anatomia brevemente, vado breve su queste cose, perché se no lo sporo, vorrei concentrarmi di più su vulnerabilità. Quindi, vedendo l'anatomia di uno smart contract, possiamo vedere che qui abbiamo la versione del compilatore, ed è importante saperlo, perché andando avanti, alcune vulnerabilità vengono aggiustate, per dire in maniera molto semplice. E quindi, sapendo uno smart contract con quale versione è stata sviluppata, noi possiamo sapere anche a cosa è vulnerabile. Qui abbiamo il nome del contratto, e poi c'è il corpo del contratto con le funzioni. Quello che magari dobbiamo tenere più a mente è che ci sono differenti tipi di variabili, comunque numeriche, stringhe, bytes, e indirizzi. Alcune funzioni sono pagabili, cioè nel senso proprio che possono gestire soldi, asset finanziari interno della blockchain, altre funzioni invece no. Abbiamo la visibilità delle funzioni, qua per esempio c'è public, e sappiamo che cosa ritorna una funzione, quindi ritorna magari un valore, una stringa piuttosto che un numero, e via dicendo tutti i vari tipi di variabili. Concentriamoci bene sui tipi numerici, perché comunque riservano delle sorprese. Abbiamo delle variabili globali all'interno di Ethereum. Abbiamo le varie unità della valuta, della criptovaluta, che prendono i nomi da differenti personaggi, tranne Ether. Queste sono le varie suddivisioni, non chiedetemi a che livello, perché comunque non me lo ricordo mai a che punto sono suddivise. Comunque fanno sempre parte della stessa... quando legge di way, fin, zap e tutto quanto, è sempre et su divisioni più piccole, sottodivisioni. Il tempo all'interno di Ethereum è scandito praticamente con il timestamp del blocco, quindi quando vedete now, block.timestamp, altri tipi di variabili che tentano di prendere la data attuale, fa sempre riferimento al blocco, al blocco in cui viene praticamente messa questa cosa. Poi, come variabile di tempo, possiamo vedere secondi, minuti, ore, days, weeks, years. come variabile globale abbiamo anche message.sender, cioè chi manda la transazione, quindi chi sta interagendo con lo smart contract, e message at value che sarebbe praticamente nella transazione quanto noi passiamo di valore. Attenzione che questo message at value fa riferimento alla criptovaluta nativa, cioè let, e le sue suddivisioni, e non ai token, che i token non sono nativi, ma sono anche loro, a loro volta, degli smart contract. Quindi, iniziamo con la prima vulnerabilità, che è molto ingannevole, non viene utilizzata molto, ma è abbastanza ingannevole. Prima abbiamo visto message.sender, che è una variabile che permette di sapere chi manda la transazione, e quindi noi magari, sapendo, come vediamo qua, message.sender, possiamo per esempio inizializzare un contratto assegnandogli la ownership, cioè la proprietà del contratto. Attenzione che noi però possiamo fare anche un altro smart contract malevolo, che utilizza the its.origin, che cosa fa? Praticamente rende vulnerabile chi la utilizza, perché praticamente va a utilizzare non tanto message.sender, ma utilizza per esempio con un layer successivo chi li sta rimandando alla transazione, quindi quello originario. E quindi praticamente noi, facendo uno smart contract che interagisce con un altro smart contract che non utilizza message.sender, ma its.origin, possiamo veramente fare quello che è un attacco quasi di phishing, cioè praticamente noi andiamo a interagire con un altro smart contract come se fossimo un'altra persona. Questo non viene utilizzato molto, ma comunque vale la pena saperlo. Quando vedete questa sigla, SWC, fa riferimento a questo sito qua, che sarebbe la smart contract weakness classification. Qui trovate, come vedete è una lista lunghissima, praticamente tutte le vulnerabilità documentate. Ci sono anche degli esempi, perciò ora andando avanti di un webinar vedete queste sigle e ve le potete andare a rivedere qui. Parleremo solo delle più famose perché altrimenti come vedete la lista è infinita e non finiamo più. Eccoci qua. E quindi questo praticamente sarebbe un simile attacco di phishing. Poi passiamo alla visibilità delle funzioni. Tutti i dati nella blockchain Ethereum sono pubblicamente visibili. quando noi andiamo a stabilire una la visibilità di una funzione in realtà stabiliamo più che altro chi ci può interagire. Non tanto la sua capacità di essere vista perché comunque su blockchain tutti i dati sono visibili. Magari non direttamente in chiaro ma comunque sono sempre visibili. quindi questo che cosa comporta? Comporta che quello che andiamo a mettere all'interno tramite transazioni anche tramite codice può comunque essere rivelato e addirittura le variabili private possono essere rivelate anche quelle semplicemente è l'accesso è l'accesso che cambia la variabile e quindi noi abbiamo differenti tipi di quasi dice visibilità ma in realtà sarebbe differenti tipi di accesso quindi le variabili pubbliche che sono accessibili internamente ed esternamente quelle private solo dall'interno esclusi contratti derivati poi vedremo anche le deleghe e le variabili interne che sono accessibili solo dall'interno e dai contratti derivati e quelle esterne che sono accessibili solo dall'esterno quindi solo da chi interagisce dall'esterno a seconda di cosa andremo a sviluppare utilizzeremo uno di questi tipi di modificatore di visibilità però attenzione che una delle vulnerabilità è quella di pensare che magari quando andiamo a mettere privato andiamo a mettere qualcosa che non è visibile in realtà è semplicemente non accessibile ma è comunque visibile anche il nome stesso della funzione diventa visibile i dati che noi passiamo con le transazioni sono visibili e quindi stiamoci attenti perché i dati sensibili all'interno delle transazioni non sono fuscati in nessuna maniera almeno nativamente quindi passiamo a una delle vulnerabilità più dolorose che c'è all'interno dei solidini quella dell'overflow ora penso che questo non sia molto da spiegare a voi perché penso che lo sappiate molto bene il calcolo binario quello che ci interessa sapere è semplicemente che quando noi abbiamo come abbiamo visto prima una variabile che è un sign integer quindi uint e il contratto utilizza una versione credo prima della 8 devo controllarlo questo o non utilizza librerie come per esempio safe mat quella variabile è suscettibile all'overflow cioè andando oltre la sua capacità massima in realtà torniamo indietro e quindi la azzeriamo negli smart contract dove noi parliamo praticamente di bilanci riuscire ad azzerare una variabile il 99% delle volte vuol dire riuscire a bypassare quello che è un check quindi una praticamente una richiesta che viene fatta da parte dello smart contract per evitare un comportamento inatteso e quindi quando andrete a vedere tutti gli attacchi fatti con overflow la maggioranza delle volte vedete che vengono utilizzati per saltare se quel bilancio corrisponde più o meno ad un valore a cui noi vogliamo compararci l'underflow è praticamente la stessa cosa ma al contrario il risultato non va in negativo ma va al massimo e quindi può essere utilizzato sempre per gli stessi scopi ma a livello inverso niente di eccezionale però comunque i dati sono i danni da queste semplici operazioni sono stati molto grossi abbiamo avuto molto tempo fa un paio di anni fa il blocco degli exchange dei depositi per colpa del batch overflow il batch overflow è esattamente quello che abbiamo visto prima solo che è applicato ad una funzione di di minting dei token a batch cioè a più parti non singola questo perché è successo e questo succede spesso è successo perché nello standard gli ARC hanno aggiunto delle funzioni customizzate praticamente hanno aggiunto del loro lavoro oltre allo standard questo li ha resi vulnerabili perché queste implementazioni non erano sicure e una volta che l'ha fatto uno come succede nel mondo della blockchain è stato fatto copia e incolla da tantissimi altri e quindi questo questa vulnerabilità del batch overflow poi è stata inclusa in tantissimi altri smart contract se vi andate a vedere l'ultimo attacco che è stato fatto a Android Finance credo che si chiama e Agave copia e incolla fork e hanno ereditato praticamente una vulnerabilità che per esempio è ben guardata dagli originari di Aave e Compound ma in quel caso non è stata guardata bene poi la vedremo bene in dettaglio e anche lì c'è stato un attacco proprio perché un copia e incolla il fatto di fare copia e incolla all'interno della blockchain a parte di uscire dall'overflow è una delle vulnerabilità più gravi cioè nel senso non è tanto copia e incolla la vulnerabilità ma quanto il fatto che essendoci molto open source e meno male che c'è purtroppo le persone tendono a copiare tutto e questo poi si portano dietro anche le vulnerabilità e non stiamo parlando di uno standard attenzione parliamo proprio della copia di un lavoro fatto da altri che è stato una personalizzazione di uno standard e il batch overflow ha portato al panico il 22 aprile 2018 quindi sono stati creati 115 octodecillioni di beauty coin all'interno della blockchain noi abbiamo un sistema deterministico basato sulla scarsità e quindi quello che tu vai a vendere e scambiare ha valore non solo a seconda della percezione dell'utente ma anche a seconda della scarsità quindi quando un asset digitale viene creato quasi all'infinito o comunque in numeri enormi decade il suo valore perché ce n'è troppo e in questo caso la beauty chain beauty coin della beauty chain credo si chiamasse così il progetto beauty chain è crollato e vorrei farvi vedere vediamo se c'è il tweet qui Poloniez che praticamente era uno degli exchange più grossi ha sospeso proprio il deposito e il prelievo dei token per paura che l'intero exchange potesse poi devastarsi perché comunque un conto è che non attacco uno smart contract un conto è che poi questo questo bug permette poi scambi illeciti in realtà perché comunque iniziano a scambiare cose che non dovrebbero esserci perché sono state create tramite un bug poi su questo ci sono differenti punti di vista perché se vi andate a vedere alcune lettere di alcuni hack infatti alcuni smart contact le vedete nelle note delle transazioni ci sono persone che dicono se tu dici che code is low quello che vado a fare è comunque lecito perché comunque il codice me lo permette e quindi è lecito quello che sto facendo e lì è un dibattito su questo comunque Polonez si è sospeso per un po' di tempo ma non solo Polonez per la paura che tutti questi scambi potessero avvenire e distruggere praticamente l'economia dell'exchange perché comunque iniziare a scambiare token che hanno un numero infinito dopo un po' distrugge tutti i radii di cambio lo vediamo anche con i flash loan quello lo vediamo dopo lo vorrei far vedere qui ho un video nel caso non funzioni ma vorrei farvelo vedere direttamente dal vivo una cosa del genere ok vado a copiare questo e qua lo vado a chiudere allora questo qui è un contratto reale cioè questo era proprio il contratto di beauty chain vado a fare il deploy e qui andiamo ad utilizzare il batch overflow vado un attimo qui per comodità rincollarmi questo perché sennò ci metto una idea di scriverlo questi sono semplicemente degli indirizzi in array come valore ci metto questo valore che è un valore abbastanza grande per mandare in overflow questo require qui e quindi permettemi di mandarmi token all'infinito però vi faccio vedere una cosa vado a vedere il bilancio di quanti ce ne ho ok questo perché è il creatore del contratto vado a prendere un altro indirizzo ne dovrebbe avere zero aspettate un attimo allora lo ricreavo un attimo col primo indirizzo faccio il deploy vedo un altro indirizzo qui e vado a vedere quanti ce ne ho ne ho zero ora qui che mi ero preparato bene per non riscriverlo da zero su batch transfer tutto quanto vado a mettere un indirizzo e ne vado a mettere un altro come per esempio questo vado a mettere anche questo valore infinito e da zero che ne avevo prima se non faccio una figura barbina ne dovrei avere un'infinità ecco qua come vedete questo è successo davvero e non è che è servito una grande mente per farlo e purtroppo queste cose accadono nel mondo della blockchain e accadono su danni di milioni di dollari e questo diciamo è uno degli attacchi più intelligenti molte volte se vi andate a vedere alcuni tipi di attacchi si tratta semplicemente di una riga sopra un'altra di un require dimenticato sopra di un require dimenticato sotto e questo è un altro tipo di vulnerabilità che non è tanto documentabile quanto è la logica delle persone quindi ritornando alle slide quello che succede è che il check del balance salta perché utilizziamo un overflow ma manca una R con questo valore gigantesco il bilancio cioè il check del bilancio è zero e quindi bypassa il check e permette il mint indiscriminato di 15-8 decilioni di token come possiamo prevenire questi attacchi possiamo utilizzare o safe map nel caso siamo obbligati ad utilizzare una versione del compilatore prima del 0.8 per qualsiasi motivo magari perché abbiamo uno smart contract che è aggiornabile quindi è su una versione precedente oppure possiamo utilizzare solidi di 0.8 che non ci costa niente e ci praticamente protegge già da overflow underflow oppure oltre ad utilizzare solidi di 0.8 possiamo usare dei modifier require cioè praticamente dei check per estringere il range numerico in cui operare però attenzione che restringere il range numerico quando lo stesso range può essere andato in overflow non ha cioè non ha effetto quindi vi conviene sempre utilizzare la versione 0.8 del superiore ok una cosa che fa molta confusione è il fullback e il receive negli smart contract noi possiamo ricevere valore cioè noi possiamo mandare valore e ricevere valore quindi ether criptovaluta all'interno di uno smart contract possiamo anche ricevere i dati quando noi facciamo una transazione e diciamo in magazzina 5 quel numero 5 praticamente noi riceviamo una transazione allo smart contract che contiene quei dati fallback e receive prendono proprio il nome da questo tipo di abilità che hanno gli smart contract prima di soliti di 0.6 avevamo questo tipo di di funzione anonima poi dopo è stato implementato fallback e receive dallo stesso nome fallback è una funzione che esce quando o non c'è la funzione receive e ci mandano qualcosa o praticamente quando ci c'è un'interazione con lo smart contract che non non è praticamente riconosciuta dallo smart contract quindi chiamano una funzione che non è riconosciuta e va in fallback perché è stata implementata la funzione di fallback è stata implementata per evitare che gli smart contract fossero frizzati cioè congelati da alcuni tipi di utilizzo e lo stesso per esempio se andate a vedere self-destruct o suicide a seconda di come gli cambiano il nome viene utilizzato sempre per la stessa filosofia receive anche è semplicemente una funzione che si può implementare per dare un comportamento specifico allo smart contract quando riceve del let quando riceve dei valori lo smart contract può avere una funzione sola di ricezione la funzione praticamente viene eseguita quando viene mandata una transazione con il call data cioè i dati vuoti ma viene passato del valore e quindi tramite send o transfer se non c'è la funzione di receive entra la funzione di fallback e questa è una cosa molto importante da tenere a mente perché sfruttando questi libri di comportamenti è possibile praticamente sfruttare alcune vulnerabilità degli smart contract specialmente nel caso della rientranza della rientra se non è presente nella funzione di receive di fallback pagabile il contratto non riceve valore non riceve letto come la funzione di receive un contratto può avere al massimo una funzione di fallback e la funzione di fallback si dichiara in quel mono la funzione deve avere solo visibilità esterna come abbiamo visto prima visibilità esterna e viene eseguita solo quando una chiamata sul contratto contiene dati non corrisponde praticamente a nessuna delle funzioni che abbiamo messo all'interno dello smart contract non c'è una funzione di receive sempre se il fallback è pagabile e viene eseguita tenendo a mente questo poi c'è un'altra cosa che è quella di mandare header forzatamente mandare header forzatamente è una cosa molto semplice crea uno smart contract ci mandi dell'hat dentro implementi una funzione di self-destruct o suicide quando lo smart contract viene terminato il valore che sta all'interno dello smart contract quindi so un hat due hat tre hat viene mandato allo smart contract designato da quella funzione perché quando scrivi la funzione self-destruct metti un indirizzo a cui devi mandare let questo serve per non congelare i bilanci il valore dello smart contract cioè quindi quindi l'hat che sta dentro lo smart contract però che succede che alcuni smart contract come l'esempio di gridlock se non sbaglio utilizzava delle funzioni molto strette sul bilancio dello smart contract stesso purtroppo queste funzioni vanno a a distruggersi comunque a fallire a non avere un comportamento aspettato quando noi mandiamo del let forzatamente a quello smart contract perché magari quello smart contract aggiorna il suo bilancio a seconda di alcune determinate funzioni e non si aspetta che gli arrivi del let dal di fuori e quindi poi come nel caso di gridlock che vi consiglio di andarvelo a vedere che non faccio in tempo secondo me a mostrarvelo succede che loro praticamente facevano riferimento proprio a una variabile di bilancio e si è bloccato lo smart contract perché quella variabile oramai era sballata perché facendo self-destruct uno smart contract gli aveva mandato del let e quindi tutti i calcoli che venivano fatti nelle comparazioni col bilancio interno fallivano o comunque non avevano il comportamento esatto delegation attack delegation attack è praticamente un attacco che viene fatto quando si includono libreria o comunque smart contract esterni all'interno di un contratto bisogna fare una distinzione quando noi utilizziamo la delegazione o delegation come vogliamo chiamare la delegate quello che noi andiamo a eseguire ha effetto nello smart contract che include la libreria ma non sulla libreria quindi non è che noi chiamiamo uno smart contract fa la sua funzione e ci restituisce un valore funziona proprio da libreria nel senso che noi andiamo a contattare praticamente tramite la chiamata delegate uno smart contract che ci offre né più né meno che in realtà un'interfaccia o comunque delle funzioni d'aiuto ma lo stato che cambia è lo stato dello smart contract che include quella libreria e quindi includendo una libreria che è vulnerabile cosa succede che la vulnerabilità viene inclusa poi in tutti gli smart contract che includono quella libreria e chi fa un certo tipo di attacco lo può replicare su tutti gli smart contract che includono quella libreria e questa è una cosa abbastanza grave perché comunque ci sono dei progetti che fanno uso pesante della chiamata delegate specialmente successo in passato con parity che c'era una funzione di fallback che utilizzava una chiamata delegate nella libreria del wallet quindi come abbiamo visto prima sfruttando una funzione di fallback è riuscito a chiamare una funzione interna della libreria che ha frizzato il contratto di parity e quindi praticamente parity che cos'era parity anzi era in quel caso era uno smart contract multi signature e quindi la gente ci metteva il loro ad il loro criptovaluta e tramite varie firme si poteva sbloccare e mandare ad altre parti il problema è che lui facendo questa cosa questa persona e qui c'è praticamente il messaggio credo che fosse di kitab ha frizzato milioni e milioni di dollari praticamente utilizzando la funzione di fallback e utilizzando la chiamata delegate ha sfruttato la vulnerabilità della libreria e ha frizzato lo smart contract con tutto quello che c'era dentro e questo per l'intera parte di codice incriminata ci sono spiegazioni molto approfondite di questo 30 milioni di dollari all'epoca credo che adesso sia ancora di più e credo che ho anche la transazione sotto qui c'è una buona referenza poi magari ve lo mando nella bibliografia ma dovrei avere anche proprio la transazione stessa se non è proprio questa questa invece di beauty chain poi ve la mando ok quindi praticamente hanno frizzato 30 milioni di dollari semplicemente con la transazione sfruttando una funzione di fullback e chiamando la vulnerabilità all'interno della libreria che poi si è ripetuta dappertutto allora quindi passiamo sempre a un'altra vulnerabilità che è la rientranza o la rientranza o codice rientrante come si voglia chiamare che è quella più utilizzata all'interno degli hack all'interno di Ethereum o comunque delle VM compatibili ecco la veramente più utilizzata e nonostante tool di analisi statica e librerie ancora la vediamo che cos'è una procedura rientrante è una procedura che praticamente viene inserita all'interno di un processo e continua la sua esecuzione all'infinito all'interno di uno smart contact in questo caso secondo voi dove l'avranno utilizzata una funzione del genere nelle funzioni di prelievo perché c'è una vulnerabilità più che altra dove l'avranno sfruttata nelle funzioni di prelievo o comunque dove si genera valore o si riprende valore l'esempio più famoso è quello del DAO hack che ha riportato addirittura la blockchain ad uno stato precedente che è una cosa gravissima questo ha rischiato proprio di ammazzare Ethereum sulla nascita e questo ha portato poi all'hard fork tra Ethereum classic e Ethereum di adesso è stato proprio l'hack alla DAO cosa è successo in questo attacco come dicevo prima abbiamo due due tipi differenti di di account abbiamo account di persone account di smart contract mi ho parlato anche del fallback e della funzione di ricezione quando noi facciamo interagire uno smart contract con un altro smart contract e implementiamo una funzione di fallback un po' malevola un pochino malevola noi possiamo per esempio richiamare se non c'è un check che ci blocca quella funzione dell'altro smart contract all'infinito come vedete in questo schema nel caso della DAO lo smart contract malevolo inizia la procedura di rilievo del withdraw lo smart contract vittima quindi ti manda letter ma non è mandato ad una persona è mandato ad un altro smart contract che è una funzione di fallback fate conto che questo è successo molto tempo fa e quindi non c'era ancora mi pare fallback e receive c'era solo fallback per questo qua viene fatta vedere la funzione di fallback quindi la funzione di fallback dello smart contract malevolo si attiva perché riceve del let e cosa dice ricomincia la funzione di withdraw nell'altro smart contract qui non c'è un check che lo blocca e si continua all'infinito all'infinito fino a che non finisce proprio quello che c'è all'interno dello smart contract o comunque non si azzera la let che sta dentro o in alcuni casi anche dei token come vedete qua sotto tristemente è messo in un angolo c'è l'aggiornamento del bilancio l'aggiornamento del bilancio sta qui a vedere in disparte senza possibilità di fare nulla la distruzione del proprio smart contract perché questo in realtà non dovrebbe stare qui in fondo abbandonato ad assistere a questo evento drammatico ma dovrebbe stare praticamente sopra e stando sopra il il withdraw quello che accadrebbe sarebbe che aggiornandosi andrebbe a zero quindi qui si poteva risolvere semplicemente spostando una linea in realtà o comunque facendo l'update del bilancio prima di mandare let questo tipo di comportamento per mitigare questo tipo di attacco ha un nome e un pattern che si chiama checks effect interaction pattern e come dice il nome prima fa il check poi l'effetto cioè cambi lo stato cioè aggiorni il bilancio in questo caso quindi vedi se quell'operazione con quel bilancio la può comparare con qualcosa quindi fare un check cambi lo stato del bilancio l'effetto e poi interagisci all'esterno e quindi mandi let in questo modo vi torno un attimo indietro appunto proprio come la rientranza non avremmo avuto questa vulnerabilità perché come vedete il bilancio qua viene aggiornato alla fine e quindi ogni volta che viene chiamata questa funzione si interrompe qui perché la funzione di fallback dello smart contract che riceve let cosa fa ricomincia sempre da qua questo scatena la riga 9 scatena il fallback dello smart contract malevolo e il fallback dello smart contract malevolo rimanda a riga 8 e quindi fino a che è possibile questa funzione 8 9 8 9 viene eseguita all'infinito perché il bilancio viene aggiornato dopo questo è successo poco tempo fa oltretutto su agave e compound e quindi quello che serve fare è aggiornare il bilancio prima e mettere dei check perché le chiamate verso contratti nodi potrebbero a loro volta causare chiamate a contratti sconosciuti e quindi è meglio applicare questo schema è meglio non fidarsi trustless la visibilità delle interazioni già l'abbiamo vista e questa la salto anche questa parte e nel parity hack il secondo in realtà anzi vediamo un attimo questa transazione questa è stata la transazione che ha praticamente portato all'altro parity hack e come vedete questa funzione che era pubblica è stata praticamente poi sfruttata da chi ha fatto l'hack e quindi tutti potevano vedete riga 107 chiunque poteva accedere a questa funzione e diventare il padrone del print del wallet multisigno perché era una funzione accessibile a tutti un errore abbastanza grossolano ma devastante ora un attimo un vuoto di memoria ma una cosa che mi piacerebbe farvi notare è che per ovviare ad una vulnerabilità del primo hack hanno creato una vulnerabilità che poi è stata sfruttata nel secondo hack ora non ricordo bene quale è successo prima e dopo però mi ricordo che praticamente una poi ha causato l'altra catena non l'ha causata direttamente ma per ovviare a quella vulnerabilità hanno sviluppato poi un'altra funzione che in realtà era vulnerabile in un altro modo questo è per fare un po' di storia su Parity oltretutto il team di Parity è il team che sta dietro a Substrate e a Polkadot ed è un team abbastanza tosto cioè non stiamo parlando di gente novizia e quindi questa cosa ci fa pensare anche a definirci esperti su tante cose perché l'errore è dietro l'angolo ok parlando di visibilità invece dalla visibilità passiamo all'entropia alla casualità e quindi sempre un po' anche questa è una questione di visibilità la casualità dentro Ethereum non esiste nel senso che è un sistema deterministico e quando noi andiamo a implementare uno smart contract per esempio di lotteria essendo il codice comunque è anche possibile decompilarlo oppure quando c'è il codice esposto è ancora più semplice comunque il codice visibile noi possiamo ricreare le stesse condizioni che portano alla creazione di un numero casuale da parte dello smart contract che in realtà non è casuale c'è chi utilizza il block stamp chi utilizza praticamente il numero del blocco ma comunque sono cose prevedibili e facendo questi tipi di queste tipi di verazioni che non sono randomiche non danno un valore casuale andiamo a creare una vulnerabilità per esempio se noi andiamo a creare uno smart contract che come dicevo prima fa una lotteria senza un oracolo esterno che gli passa dei dati come per esempio può fare Chainlink o più oracoli andiamo a creare un sistema che è prevedibile e devo dire la verità su questo ho lottato molto anche con progetti che mi sono stati proposti perché comunque come potete capire nel gioco d'azzardo nel modo del gioco d'azzardo la blockchain ha fatto proprio un un boom e mi arriva a parte che ho rifiutato progetti sul gioco d'azzardo a prescindere ma mi arrivano molte volte progetti che mi chiedevano di creare tutto on chain anche lotterie sistemi di slot machine e tutto quanto e la gente si rifiutava di credere che comunque era tutto prevedibile se andate su ethernaut ci sono delle challenge o delle sfide poi c'è il link alla fine ma per esempio c'è il conflip cioè indovinare un testo a croce e comunque facendo quella sfida andate a capire potete capire benissimo che su blockchain non c'è casualità su Ethereum blockchain almeno all'interno degli smart contract intendo e Arsenio Reutoff o Reutoff se è tedesco ha praticamente scritto questo post che analizzava 3649 contratti che all'epoca erano parecchi erano molti perché non ce n'erano tantissimi e ha trovato 43 smart contract vulnerabili praticamente a numeri che non sono casuali e quindi prevedibili e qui entriamo negli oracoli vado un po' veloce quindi noi ci dobbiamo fidare di fonti esterne e per fidarci di fonti esterne andiamo poi però a a incappare in altre problematiche Chainlink offre una soluzione basata su Towncryer tempo fa Towncryer è un team che poi si è fuso con Chainlink che permette di eseguire operazioni tra Ethereum e il mondo esterno e tra cui specialmente la generazione di numeri casuali quindi se dovete creare uno smart contract che utilizza numeri casuali utilizzate un oracolo come servizio di Chainlink e questo è per dire come medicare la cosa per utilizzare oracoli cosa bisogna fare bisogna creare veramente un sistema esterno un server esterno che manda delle transazioni allo smart contract è molto semplice in realtà e quindi abbiamo un server esterno che agisce sia mandando sia ricevendo informazioni dello smart contract presente noi abbiamo un wallet integrato in un server che manda transazioni o agisce a seconda di informazioni esterne ecco in Chainlink è la cosa un po' più complicata e vi consiglio di approfondirla passiamo ai flash loan arriviamo alla fine del seminario il flash loan è un prestito praticamente senza collaterale perché perché o si risolve nella stessa transazione quindi o tu lo ripaghi nella stessa transazione questo prestito o fallisce e i soldi torneranno tutti indietro sotto c'è un messaggio abbastanza esplicativo per gli esperti della DeFi che fa riferimento all'attacco di Pancake Swap dove il flash loan è stato utilizzato per fare quello che è un flash loan attack cos'è un flash loan attack? è ovviamente un attacco che sfrutta l'arbitraggio e quindi le differenze di cambio nei differenti exchange e quindi quando tu lo stesso asset lo puoi vendere per di più quindi avere un guadagno su un altro exchange puoi sfruttare un arbitraggio cioè vendere la stessa cosa e guadagnarci di più dall'altra parte perché il cambio è più favorevole rispetto ad altre cose e quindi facendo a catena tutti questi scambi puoi guadagnarci tanto ancora meglio se se in questo tipo di mercato invece di fare transazioni normali tu fai degli acquisti abnormi utilizzando i flash loan e quindi tu non è che sfrutti il concetto di arbitraggio praticamente pialli tutto il mercato utilizzando dei prestiti enormi e quindi comprando enormi quantità di token e scambiandoli con altre enormi quantità e quindi praticamente fai crollare i prezzi prima li li gonfi e poi li fai crollare andandotene via con un guadagno enorme delle volte questo è stato fatto perché le interazioni tra smart contract venivano fatte un po' come la casualità che venivamo prima i radi di cambio venivano calcolati proprio su smart contract e quindi simulandoli questi flash loan attack le persone chi vuole fare questo attacco e impiegarci un po' di tempo potrà capire qual era la strategia adatta per sbilanciare il mercato e creare dell'arbitraggio che non era casuale dettato dal comportamento umano imprevedibile ma da determinati tipi di azioni determinati scompensi nel mercato e uno dei più famosi è stato quello di PancakeSwap e arrivando alla fine parlando di rientranza vediamo Agave e Andred che sono praticamente due fork uno di Aave che è praticamente un protocollo di flash loan e l'altro è Andred un protocollo di sempre di DeFi basato su compound che hanno utilizzato hanno permesso lo scambio di un token creato ad arte che aveva una vulnerabilità di rientranza e quindi praticamente si è stato è stato fatto questo flash loan che come garanzia iniziale è stato utilizzato appunto il flash loan e gli aggressori hanno fatto flash loan su flash loan ma essendo vulnerabile il token alla rientranza il bilancio come abbiamo visto prima non si aggiornava in tempo quindi rimanevano nell'angolo da solo a vedere le costruzioni in maniera drammatica dello smart contract e praticamente hanno svuotato Agave e Andred e il vettore di attacco è stato lo stesso addirittura di CRIM e quindi che è successo addirittura ad agosto un anno fa e si ripete sempre per il copio e colla cioè è brutto dire che il copio e colla sia una vulnerabilità perché non è molto scientifico come termine ma in realtà nel mondo della blockchain in pratico ha proprio un peso enorme dove ci possiamo esercitare per vedere queste vulnerabilità le possiamo esercitare su Damn Vulnerable DeFi che si occupa proprio di flash loan o comunque di situazioni simili ai flash loan e Ethernet di OpenZeppelin che praticamente prendendo una a una le vulnerabilità crea delle challenge e quindi delle sfide da da superare come dei stati di smart contract possiamo utilizzare Mocha e fare degli unit test noi come umani oppure fare delle analisi statiche utilizzando più tool se questo io lo faccio lo integri magari nelle github o in delle pipeline è molto meglio perché ogni volta che tu fai una modifica allo smart contract intendo come codice no smart contract pubblicato su blockchain quindi sul codice dello smart contract ti genera un report che puoi vedere se hai magari creato una vulnerabilità e qui abbiamo come referenza consensus che ti consiglia determinati tool e l'SWC registry dove hai tutte le dove avete tutte le le vulnerabilità ok mi dispiace di aver passato superficialmente alcune cose ma era per questione di tempo comunque avete tutto il materiale per approfondire Grazie a tutti